Vorrei comprare un po' di buona birra, prego. Ok, sta qua. Avanti, 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 quanto ci vuole? Così, così, avanti tutto. Signori belli, perché usare le armi se possiamo risolverla da uomini? Billy, attento! Sei immune ai proiettili! Sono a prova di proiettile. Sparatemi ancora. Oh, sì, 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 tieni, tieni. Su, sparati, avanti, e abbondate. Fermi, fermi! Così non capisco se hai il costume a prova di proiettile o sei tu. Mirate alla faccia. Mirate alla fa... alla faccia? Mi fa il solletico. Siete morti. No! No!